bene bene ragazzi siamo qui con l'arco e noi qua in FTS 2015 sono pronti per giocare con del Torino è tempo di calcio ragazzi abbiamo finito in campo abbiamo in campo partita numero 16 sedicessima partita del campionato fischio l'inizio della partita contro il Torino allora recuperata cacchi uno giallo ai per tio ragazzi che rimbalza sul giocatore fuori gioco si riporta gol 1-0 palla dal Torino facciamo in porta palla fuori che parata colpo di testa ragazzi gol il secondo gol colpo di testa di testa un calcio d'angolo subito 2-0 nel primo tempo contro il Torino se lo facciamo un'altra volta ragazzi arrivare palla scusa eh mi pensi via super ah la traversa non parata l'inizio della partita scusa me l'inizio prima ancora butta via la palla fuori ancora butta via la palla a fine del primo tempo ragazzi andiamo siamo in vantaggio 2 a 0 ci prendiamo subito si inizia subito l'attacco a fallo dai che ti muro dai dai un rosso grazie 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 abbiamo capito tutto lancio lungo più o meno di più recupero siamo in netto vantaggio due minuti di recupero finita ragazzi partita finita ragazzi 2 a 0 ciao buona serata a tutti alla prossima partita